Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti in questo nuovo unboxing che non doveva essere oggi ma questi pacchi mi sono piovuti addosso all'improvviso proprio stamattina e non potevo non aprirli anche perché sono sei pacchi di queste dimensioni qui, cioè enormi, ragazzi non ho neanche lo spazio per muovermi comunque trovate tutto sul mio sito ara shop, ragazzi io direi di non perdere altro tempo e andiamo subito a spacchettare, vediamo un po' se riesco a prenderli perché sono veramente anche pesanti allora, eccoli qua, primo pacco impostazione, vediamo quali meraviglie si c'erano all'interno ragazzi oggi bombe clamorose su bombe, allora, è veramente difficile ragazzi oggi, veramente difficile ci vuole un magazzino più grande, è arrivato il momento, ecco qua allora, direi che cominciamo subito col botto ragazzi, perché questa è la prima bomba di oggi pacco nel pacco, eccoci qua con la tanto attesa non ci credo doppio pacco mi stanno freddendo in giro cioè, ok siamo a due, ce ne sarà un terzo, chissà vediamo, magari è vuoto all'interno vai super protetto giustamente ragazzi, giustamente è così che si imballa e si spedisce oh, dicevo ecco a voi la tanto attesa batmobile ragazzi la vera batmobile del film di batman dell'89 di Tim Burton opaca col tetto nero come avrebbero dovuto parlare dall'inizio e con soprattutto il batman incluso all'interno ragazzi questo set costa veramente poco per quello che ci dà ed è infatti quasi esaurito già sul sito quindi vi consiglio di fiondarvi ci sopra prima che sia troppo tardi questo è il set definitivo ragazzi McFarlane Toys batmobile più batman questa è la batmobile fatta come si deve chiaramente poi andremo a vedere tutto sul canale fatemi sapere se volete la recensione naturalmente chiaramente ne ho ordinate un bel po' di copie quindi il tutto sta nel beccare quale di questi packing non contiene le batmobile ne ho ordinate un po' di copie però sono quasi tutte esaurite vediamo questo ragazzi che è pesante veramente a certi livelli proviamoci facciamo questo tentativo e mi sa che l'ho beccato ragazzi mi sa che l'ho beccato via l'imballaggio poi chiaramente sarò io a dover mettere tutto a posto e ragazzi nuove chicche firmate Hasbro i Power Rangers Lightning Collection eccoli qui abbiamo il Black Ranger Zack abbiamo il Red Rangers immancabile questo qui è fighissimo perché è dotato anche dell'armatura intercambiabile quindi si può esporre sia con l'armatura sia senza assolutamente vanno prese due copie e poi scavando ancora vedo altre due batmobile quindi per quest'altro pacco abbiamo finito attenzione perché c'è una bomba clamorosa restate fino all'ultimo pacco e ragazzi dopo un'attenta analisi credo proprio che sia questo l'ultimo pacco d'aprire tra l'altro vi ricordo che oggi ci vediamo alle 15 in punto su Twitch ragazzi in live su Twitch trovate il link qui sotto in descrizione state tranquilli perché è tutto gratuito non si paga nulla su Twitch se non lo volete chiaramente e quindi ci vediamo là in live facciamo quattro chiacchiere e chissà magari spacchettiamo in anteprima qualcuna di queste cose vediamo vediamo un po' allora pacchettino aperto qui vedo già appunto altre batmobili come è naturale che sia è lì è lì avevo ragione ragazzi avevo ragione è proprio qui all'interno che si nascondono le altre novità cioè Ahsoka Tano eccola qui direttamente dalla nuova serie Disney Plus che mi dicono sia molto bella ovviamente Black Series devo recuperarla poi una bomba clamorosa un Darth Vader come non se ne vedevano da un po' ovvero con l'elmo rimovibile ragazzi questa è una chicca incredibile poi con la confezione stile vintage ragazzi bomba assoluta questo da avere assolutamente e a proposito di bombe assolute ragazzi guardate qua che cos'è arrivato vi conoscete? Hot Toys andiamo subito a spacchettare perché ragazzi questa è una bombetta questa è una bombetta che aspettavano in molti io lo so che aspettavano in molti tra cui me mi sa che questo tocca metterlo in vetrina insieme agli altri ragazzi brown box aperto ed ecco qua ragazzi che confezione pazzesca metallizzata eccolo qua Hot Toys di The Amazing Spider-Man 2 le bombe clamorose del lunedì questo ragazzi va visto sul canale assolutamente lo vedremo su Twitch chissà chissà vediamo venite in live lo scopriremo insieme bomba incredibile ragazzi e direi che per questo video la possiamo chiudere qui ci sono questi altri pacchi che però contengono sicuramente solo altri in Batmobile io verifico chiaramente per sicurezza nel caso non fosse così vi faccio vedere il resto nel video ma direi che per adesso è tutto noi ci vediamo alla prossima ciao da Ara e come siete sempre